Il capitolo 20 è quello dedicato al modello microscopico della materia, cioè dopo aver analizzato come si comporta un gas e quali sono le trasformazioni alle quali può essere sottoposto nel momento in cui c'è un passaggio di calore, adesso ci domandiamo dal punto di vista microscopico che cosa succede. Lasciamoci guidare dalle parole di Einstein che nel suo L'Evoluzione della Fisica, scritto insieme a Leopold Infeld, cerca di spiegarci questo moto browniano. Una sorprendente manifestazione del moto di particelle nei liquidi si ebbe per la prima volta con il cosiddetto movimento browniano, un importante fenomeno che, senza la teoria cinetica della materia, rimarrebbe assolutamente misterioso ed incomprensibile. Esso fu osservato per la prima volta dal botanico Brown e venne spiegato, tant'anni dopo, al principio del presente secolo. L'unico apparecchio occorrente per studiare il movimento browniano è un microscopio, anche non molto buono. Brown stava lavorando con granuli di polline di talune piante, ossia particelle o granuli di insolite dimensioni, la cui lunghezza variava fra un quattromigliesimo ed un cinquemillesimo circa di pollice, cioè da sei a cinquemillesimi di millimetro. Egli continua, esaminando la forma di queste particelle immerse nell'acqua, mi accorsi che molte di esse si trovavano in moto. Questi movimenti erano tali da convincermi, dopo ripetute osservazioni, che essi non potevano essere causati né da correnti nel fluido né dalla sua graduale evaporazione, ma che dovevano appartenere alle particelle stesse. Una simulazione del moto browniano la possiamo vedere su questo sito. Cos'era successo a Brown? Nel 1827 aveva un secchio con dell'acqua vicino a dove stava svolgendo i suoi esperimenti. In questo secchio sono cadute delle particelle di polline e lui ha notato il movimento di queste particelle di polline. Ha cercato di darsi una spiegazione, ma non è stato in grado di trovarla. L'unica cosa che aveva notato era che non dipendeva dal tipo di polline che veniva messo nel secchio. Per arrivare ad una spiegazione adeguata di questo moto browniano bisogna aspettare il 1905, cioè l'Annus Mirabilis di Einstein. Che cosa aveva intuito Einstein? Questo era ciò che vedeva, quello che vediamo sullo schermo era ciò che vedeva Brown, cioè delle particelle in movimento. Einstein è riuscito a intuire che sotto queste particelle in movimento ce ne fossero altre, cioè le nostre molecole di acqua sempre in movimento, e quindi urtando le molecole di polline di fatto determinavano questo movimento in superficie. Non ci poteva essere altra spiegazione. Vediamo che aumentando l'energia di queste molecole di acqua cambia anche il movimento dei pollini in superficie, e scopriremo durante questo capitolo che quell'energia è direttamente connessa alla pressione e alla temperatura. La stessa cosa, se noi cambiassimo la grandezza di queste molecole, allora sembrerebbe calmarsi un po' tutto, anche se il movimento delle molecole in superficie sembra farsi un po' più frammentario. E cosa succede se cambiamo la massa? Di fatto gli urti si fanno più importanti, cioè il cambio di direzione imposto dagli urti con le molecole di acqua si può notare ancora di più. Il moto browniano diventa quindi una dimostrazione del fatto che all'interno dei fluidi, quindi all'interno dei liquidi e all'interno dei gas, ci sono delle molecole in continuo movimento. Abbiamo verificato sperimentalmente, diciamo così, questa cosa in classe, utilizzando semplicemente dell'olio 31. Aprendolo in un angolo della classe, di fatto ci è voluto un po' di tempo prima che il profumo o l'odore di olio 31, a seconda di come la pensiate al riguardo, raggiungesse l'altro estremo della classe. Questo è dovuto al fatto che le particelle di olio 31, esattamente come le nostre particelle di polline, non possono svolgere un cammino rettilineo lungo la classe, ma sono di fatto urtate in continuazione dalle molecole del fluido, quindi dalle molecole di aria che ci sono quindi all'interno della stanza e che in qualche modo ostacolano il percorso di queste particelle di olio 31. Per poter affrontare la teoria cinetica dei gas, dobbiamo considerare alcune ipotesi semplificative che ci permettono di cogliere meglio quella che è l'essenza di questa teoria, e cioè le molecole non hanno una struttura interna, come se fossero in realtà delle palline in movimento. Le molecole sono in movimento continuo e casuale, detto moto di agitazione termica, non si fermano mai. Il moto delle molecole è quello previsto dai principi della dinamica, esattamente come la teoria degli urti per quanto riguarda gli urti contro le pareti del recipiente, gli urti fra di loro, eccetera, eccetera. Le forze esterne e le forze di attrazione reciproca che agiscono sulle molecole sono trascurabili, cioè la velocità di una molecola cambia solo per effetto di urti elastici con un'altra molecola o con le pareti del contenitore. Quindi, semplificando in questo modo, possiamo arrivare a quello che è un modello molecolare. Un modello molecolare di un gas perfetto, che interpreta quindi in termini microscopici le proprietà macroscopiche del gas. Quelle macroscopiche erano pressione, volume e temperatura, e le abbiamo incontrate precedentemente. Quelle microscopiche saranno quindi il numero di molecole, la loro energia cinetica media, cose di questo tipo. Allora, cominciamo innanzitutto con l'individuare una simbologia particolare che ci accompagnerà durante questo percorso e che semplificherà di molto il nostro modo di scrivere le formule. E cioè, se noi scriviamo, questa qua è l'energia cinetica media. L'energia cinetica media, di fatto, da cosa è dato? Dalla somma di tutte le n energie cinetiche diviso il numero delle energie cinetiche. Esattamente quello che abbiamo scritto qua in forma più abbreviata, dove questo si legge sommatoria per i che va da 1 a n di k con i, il tutto diviso n. Questo ci permette di rendere i processi molto più snelli. Cominciamo con il considerare quindi un gas chiuso all'interno di un contenitore, in questo caso cubico, per semplificare di molto la situazione, e all'interno di questo contenitore le molecole del gas si muovono in tutte le direzioni e colpiscono le pareti del contenitore. La pressione del gas perfetto è dovuta agli urti delle molecole contro le pareti del recipiente e in particolare questa pressione la definiamo in questo modo. Qua abbiamo due grandezze microscopiche e due grandezze macroscopiche. Abbiamo il numero delle molecole, che è una grandezza microscopica, l'energia cinetica media delle molecole, che è una grandezza microscopica, la pressione, che è una grandezza macroscopica, che a sua volta l'abbiamo definita, quando l'abbiamo incontrata all'inizio del percorso, come rapporto fra forza e superficie. E il volume, che sarà in questo caso il volume del nostro cubo, e che è quindi ancora una grandezza macroscopica. Se noi consideriamo questo cubo e alle dimensioni di questo cubo associamo le componenti del nostro spazio cartesiano, x, y e z, per quanto riguarda le velocità delle molecole del gas all'interno di questo cubo, possiamo fare tre ulteriori ipotesi semplificative. La prima è che la velocità di queste singole molecole sarà sempre perpendicolare alle superfici del nostro cubo. Questo ci porta quindi direttamente alla seconda, che un terzo delle nostre molecole avrà una velocità lungo l'asse x, un terzo ce l'avrà lungo l'asse y, e un terzo ce l'avrà lungo l'asse z, come se fossero equamente distribuite. Quindi un terzo si muoverà avanti e indietro, un terzo fra destra e sinistra, e un terzo invece alto e basso. L'altra nostra ipotesi è quella che ci porta a dire che la velocità sarà la stessa per tutti, e la indichiamo con questo simbolo. Cosa significa questo simbolo? La velocità che indichiamo così è la velocità quadratica media, che è diversa dalla velocità media. Innanzitutto la velocità quadratica media si definisce come la somma dei quadrati delle velocità, diviso il numero totale delle nostre velocità, sotto radice. Quindi in altre parole è V1 al quadrato più V2 al quadrato più Vn al quadrato, tutto sotto radice e fratto n. Beh, non solo questa velocità quadratica media è diversa dalla velocità media, ma di fatto è maggiore della velocità media delle molecole, e potrebbe essere uguale solamente se le nostre singole velocità fossero tutte uguali fra di loro. E quindi, di fatto, se non si verifica questa cosa, le due velocità non possono essere uguali. Possiamo a questo punto stabilire quello che è il legame fra la temperatura e l'energia cinetica media. Abbiamo visto prima che aumentando l'energia aumentavano appunto il movimento delle nostre molecole. E di fatto questa agitazione termica è direttamente collegata alla nostra temperatura. Quindi di fatto possiamo definire la temperatura come una misura dell'energia cinetica media dei grani microscopici della materia, atomi, ioni e molecole. Anche in questo caso abbiamo legato una grandezza microscopica, e cioè la nostra energia cinetica media, ad una grandezza macroscopica, cioè la nostra temperatura. L'anello di collegamento è dato dalla costante di Boltzmann. Se vogliamo ulteriormente approfondire questo aspetto, abbiamo bisogno del teorema di equipartizione dell'energia. Cioè non basta definire la nostra temperatura come abbiamo fatto. Per essere più precisi dobbiamo definirla in questo modo, dove L è dato in realtà dei gradi di libertà. Cosa vuol dire? Consideriamo per semplicità solamente gas monotomici o biatomici. I gas monotomici sono quelli costituiti da un solo atomo. Nella nostra realtà esistono come gas monotomici quelli i gas nobili, quindi elio, neon, argon, krypton, xenon, radon. Mentre invece biatomici sono quasi tutti gli altri, e quindi in particolare qua ho segnato idrogeno, ossigeno, azoto, cloro. Poi ci sarebbero in realtà anche quelli triatomici, eccetera, eccetera, a seconda in realtà del numero di atomi che compongono le molecole di base. A seconda che un atomo sia monotomico o biatomico avrà differenti gradi di libertà. Nel caso del nostro gas monotomico abbiamo solo tre gradi di libertà, e questi tre gradi di libertà corrispondono quindi solamente alla traslazione che può avvenire lungo la direzione X, lungo la direzione Y, o lungo la direzione Z. E quindi l'energia cinetica media di traslazione sarà tre mezzi Kb per T. Ma di fatto anche per i nostri gas biatomici ci saranno tre gradi di libertà per quanto riguarda la traslazione. Le cose cambiano quando stiamo considerando la rotazione perché nel caso della rotazione per quanto riguarda la molecola monoatomica non ci sarà possibilità di rotazione anche se la molecola ruota su se stessa non notiamo differenze. Cambia invece nel caso del gas biatomico perché in questo caso abbiamo due gradi di libertà per quanto riguarda la rotazione e quindi di conseguenza abbiamo due gradi di libertà qua, tre gradi di libertà e ci danno un totale di cinque gradi di libertà e quindi la nostra energia cinetica media è uguale a cinque mezzi Kb per T. Vediamo quello che è il collegamento tra la nostra temperatura e la nostra velocità quadratica media. Allora sappiamo che l'energia cinetica media sarà data da un mezzo M velocità quadratica media al quadrato ma allo stesso modo per quello che abbiamo appena visto Km sarà uguale, visto che stiamo considerando la velocità stiamo considerando solamente la traslazione tre mezzi Kb per T eguagliando a questo punto i due secondi membri e semplificando otteniamo di fatto che la nostra velocità è uguale a tre Kb per T diviso la massa tutto sotto radice. Questo sostanzialmente ci porta a dire che se consideriamo due masse diverse fra di loro con una massa M1 maggiore di una massa M2 otterremo che la velocità di V1 risulterà essere minore della velocità di V2 perché di fatto la velocità è inversamente proporzionale alla radice della massa e quindi se noi stessimo considerando ad esempio la molecola del profumo della rosa M1 che ha una massa maggiore rispetto alla molecola dell'odore delle uova marce di fatto potremmo dire che l'odore delle uova marce ci raggiunge prima del profumo della rosa Queste sono le distribuzioni maxwelliane della velocità Allora, ad esse è associata questa formula che è appunto la distribuzione della velocità Dunque, la prima osservazione che possiamo fare è che l'area sottesa da queste curva rappresenta il numero totale delle molecole che hanno una velocità compresa fra 0 che è il minimo e il massimo che non è ben specificato e questo ci porta subito a notare che questa curva non è simmetrica quindi non assomiglia a quella che è la nostra curva di Gauss la curva campana ci assomiglia solo così ad una prima occhiata poi da questa curva possiamo anche notare quello che avevamo detto in precedenza e cioè che la velocità quadratica media è maggiore della velocità media e infine che le velocità più comuni sono quelle più vicine alla velocità media perché l'ordinata di fatto ci rappresenta la probabilità di ottenere quella velocità quindi quest'area ad esempio ci dà il numero di molecole con una velocità compresa tra V1 e V2 Cosa cambia invece se aumentiamo la temperatura e rappresentiamo sempre la nostra curva la temperatura maggiore è la temperatura T3 a cui corrisponde questa curva scendendo troviamo T2 e poi T1 che è la minore di tutte possiamo notare subito che la velocità quadratica media che possiamo associare ad ogni curva cambia al cambiare della nostra temperatura e quindi minore sarà la temperatura minore sarà la velocità quadratica media al contrario invece maggiore sarà la temperatura minore sarà il numero di molecole interessato da questa velocità quindi in altre parole siccome l'area in questo caso è uguale per tutti cioè ci dà il totale delle molecole coinvolte ciò che si sviluppa di più in altezza si svilupperà di meno in larghezza e viceversa possiamo concludere a questo punto con l'energia interna l'energia interna U del gas perfetto coincide con la sua energia cinetica totale K data dalla somma delle energie cinetiche delle singole molecole allora questo per quanto riguarda il gas perfetto quindi la nostra energia interna è semplicemente l'energia cinetica quindi per il teorema di equipartizione dell'energia otteniamo questa formula e in realtà potremmo anche scriverla in modo diverso visto che il numero di molecole è dato dal numero di moli per il numero di Avogadro e che la costante di Boltzmann è il rapporto fra R e il numero di Avogadro allora di fatto questa la possiamo anche scrivere come L mezzi N R T ed è la formula che abbiamo usato probabilmente più di frequente negli esercizi per quanto riguarda invece il gas non perfetto nella nostra energia interna dobbiamo tenere presente anche l'energia potenziale quindi non ci sarà solamente l'energia cinetica come avviene per il gas perfetto ma ci sarà anche l'energia potenziale grazie